Era stato annunciato dal primo cittadino Alessandro Ghinelli solamente qualche giorno fa e oggi sono arrivati i vigilanti. Spetterà infatti alla vigilanza privata a tenere sott'occhio questa zona, la zona dei giardini della Porcinai, a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Il presidio andrà avanti sino all'inizio dei lavori di riqualificazione. L'avvio è previsto per il prossimo giugno. Sono già stati individuati anche i giorni e le fasce rarie in cui la zona sarà presidiata. I vigilantes saranno sul posto dalla domenica al giovedì dalle 14 alle 2, mentre il venerdì e il sabato la vigilanza sarà assicurata sino alle 4 del mattino. Peggio non faranno sicuramente, è certo che se ci fosse qualche cosa per cui intervenire non possono intervenire, quindi possono fare un po' da deterrente sperando che non capiscano subito che non sono della polizia. La zona dei giardini del Porcinai nelle ultime settimane in più occasioni era stata teatro di episodi di criminalità e degrado. Commercianti e residenti ormai da anni lamentano anche spaccio, violenza e bivacchi. Oltre al presidio fisso, l'amministrazione comunale ha già annunciato che saranno installati dei fari per illuminare meglio i giardini e saranno sfoltiti anche gli alberi per rendere più ampia la visibilità. Spero sia una cosa positiva, ora vediamo un po' i risultati, di sicuro c'è un po' più di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Sicuramente è un problema di non avere un organico sufficiente per poter essere presenti come devono e vediamo un pochino. Probabilmente la vigilanza ha un potere anche di intervento non personale ma di far intervenire le forze dell'ordine molto più veloce di noi. Noi di solito se chiamiamo passa un po' di tempo prima che vediamo, speriamo che sia di buon auspicio questa presenza perché ne abbiamo quasi bisogno, vorrei dire, dopo tutto quello che è successo. Controlli nella zona oggi anche da parte delle forze dell'ordine come deciso nell'ultimo tavolo sulla sicurezza in prefettura. Presenti polizia di stato, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza.